Ho ho ho, è arrivato Natale! E oggi sono in questa meravigliosa produzione, la Filmax, del produttore e regista Massimiliano Tedeschi. E come potete ben vedere, alle mie spalle c'è un meraviglioso canino, che mi dà tanto calore. Mi raccomando quest'anno. Ricordatevi di aiutare il prossimo, soprattutto a Natale, perché bisogna essere più bravi e di dare tanto calore, tanto calore fisico alle persone, perché la cosa più bella nella vita è dare tanto amore. E nel frattempo vi voglio ricordare, sempre da qui, dalla Filmax, di Massimiliano Tedeschi, che in produzione ha un nuovo film, e il suo titolo è Retroscena, un film che vi stupirà una storia d'amore, fazione e tanti colpi di scena. Io vi auguro un felice Buon Natale e di viverlo con le persone a voi più care, i vostri amici, i vostri familiari. E ricordatevi, a breve uscirà il film della Filmax, intitolato Retroscena. A presto! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Grazie a tutti.